4 minorenni pesaresi fra i 14 e 15 anni sono stati individuati dalla polizia e denunciati per danneggiamenti alla procura dei minori di Ancona in seguito ad episodi di vandalismo alle scuole pesaresi. Sono stati incastrati da un residente di Pantano che li ha visti e fotografati domenica sera mentre facevano irruzione alla scuola Brancati. La volante della polizia subito allertata è arrivata nell'istituto di Viala Marmora e ha rilevato segni di effrazione e lo svuotamento di un estintore nell'aula d'arte. Sono stati rintracciati e riconosciuti in zona muraglia mentre erano in sella alle loro biciclette. Poco lontano è stato rilevato anche un analogo atto vandalico alla scuola Leopardi di Montegranaro dove nella stessa domenica sera in alcune aule si è registrata una simile irruzione con svuotamento di estintori. Le indagini stanno vagliando se i quattro minori appena imputabili siano responsabili anche di questo episodio al quale se ne accoda un terzo di meno di una settimana fa quando alla scuola Chiara Lubic di Largo Baccelli l'irruzione con apertura di estintori fu addirittura preceduta dall'appiccamento di diversi eroghi all'interno dell'istituto di Pantano. Resta la mare in bocca sicuramente vista la teneretà degli attori di questi atti vandalici che non vorrei chiamarli baby vandali come ho letto in alcuni titoli dei giornali in queste in queste mattine ma semplicemente dei ragazzini che utilizzano male il proprio tempo. Come servizi educativi, come servizi delle politiche giovanili siamo già in contatto con alcuni gruppi informali di ragazzi e di adolescenti, questi ragazzi hanno 14-15 anni mi pare di capire e sono appunto giovanissimi. Molto spesso si parla di disagio, di quello che le nuove generazioni non sono in grado di fare. Io penso che la responsabilità di noi adulti sia molto importante. Se un gruppo di ragazzini pensa di andare a deturpare una scuola, un bene comune, il simbolo di quella che dovrebbe essere l'inclusione lascia una grande tristezza e noi adulti dobbiamo intervenire, intervenire con delle azioni di supporto anche se vogliamo educative da parte di chi questa attenzione al bene comune non ha e la tempistica, il tempismo è importantissimo. Ringrazio i vicini come sempre la rete di vicinato che aiuta l'amministrazione a controllare le scuole e altri beni pubblici e anche le forze dell'ordine che sono subito intervenute di fronte alla segnalazione. Io spero che sia l'ultimo atto di una storia abbastanza triste che ha accompagnato queste giornate prima dell'inizio della scuola e che poi della scuola si possa parlare soltanto in termini positivi.